Anno 2022. In provincia di Savona è la mattina del 24 febbraio. Ti alzi, accendi la tv e i telegiornali ti mostrano le immagini dei carri armati russi che invadono l'Ucraina. I media cominciano a parlare di guerra e, poco dopo, di minaccia nucleare. Siamo davvero alle porte di un conflitto militare in Europa? Perché la Russia ha deciso di intraprendere un'operazione militare in Ucraina? Come siamo arrivati in questa situazione? Ne parliamo nell'episodio di oggi con una docente, politologa ed esperta di politica russa. Chi, come sempre, ve lo dico dopo la sigla. E ci siamo! Ben trovati, ben trovati, cari amici e cari amici. Io sono Nicola Seppone e questa è la telefonata del podcast dove si parla un po' di tutto, ma del Savonese soprattutto, ma come state? Mi verrebbe da dire mai come in questo periodo, spero bene. Sì, perché ci siamo lasciati poche settimane fa con l'ultimo episodio e, non è un modo di dire, ma in pochi giorni è letteralmente cambiato il mondo. È scoppiata una guerra tra Russia e Ucraina. Un conflitto davvero tragico, perché è ancora in evoluzione, un conflitto che in queste ore si sta ancora consumando e si fa fatica anche a trovare le parole, perché veniamo da due anni di emergenza sanitaria, stavamo uscendo da un incubo chiamato Covid, cominciavamo a vedere la luce in fondo al tunnel, quando ad un certo punto i telegiornali, i giornali hanno iniziato a parlare di guerra, di minaccia nucleare, tutti argomenti che ci sembrano anacronistici quasi. Ci sembra di fare un tuffo nel passato di 70-80 anni, cosa che uno che ha la mia età e quasi non può ovviamente neanche fare, però ci sembra di tornare, di essere stati teletrasportati indietro nel tempo. Invece no, è una minaccia reale, la guerra è una cosa reale e quello che sta accadendo in Ucraina in questi giorni è purtroppo tremendamente reale. Leggevo le agenzie poco fa, ci sono sindaci ucraini che raccontano di città senza acqua, senza cibo, non riescono neanche a levare i cadaveri dalla strada perché i bombardamenti sono incessanti. È questa la situazione purtroppo. Qual è l'obiettivo del podcast di oggi? L'obiettivo del podcast di oggi non è quello di fare ovviamente una cronaca di quello che sta avvenendo là fuori, non è questo naturalmente l'obiettivo di un podcast. L'obiettivo è quello di capire che cosa sta succedendo, questo sì, facendo anche un salto nel passato della storia russa, quindi per farlo ho chiesto a una docente, un'esperta di politica russa, che conosce bene anche Vladimir Putin, di intervenire in questo episodio per spiegarci che cosa sta succedendo, quali sono i passaggi storici più importanti che hanno portato sostanzialmente al conflitto che oggi vediamo che ha radici però profonde e per capirlo dobbiamo per forza farlo con un'esperta, con una persona che ha studiato e che ovviamente ne sa. Lei si chiama Mara Morini ed è la persona con cui parlerò tra poco. Allora, pronto, buonasera dottoressa Morini, bentrovata alla telefonata. Buonasera. Buonasera, la ringrazio a lei per aver preso parte a questo podcast. Allora, la presento io ma in realtà forse sarebbe meglio che si presentasse lei che sicuramente è molto brava di me, ma lei è una esperta di politica russa, una scrittrice anche perché so che lei ha scritto un libro, ma forse anche più di uno, ed è un'editorialista per domani. Sì, e sono professoressa associata di Scienza Politica e Politics of Eastern Europe all'Università di Genova. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, senta dottoressa, io oggi in questo podcast andremo ad affrontare un tema insieme che sinceramente avrei pensato tutto di parlare in questo podcast tranne di questo che stiamo per parlare. Quello che sta succedendo in Ucraina veramente è qualcosa che è difficile anche spiegare a parole. Una guerra, quella tra Russia e Ucraina, che è scoppiata in un momento storico già particolarmente difficile perché stavamo provando ad uscire da una pandemia di due anni che veramente aveva devastato non solo il morale, non solo l'economia, ma anche il morale delle persone e invece adesso ci ritroviamo ad affrontare un conflitto. Un conflitto nel cuore dell'Europa, potremmo dire, e con lei che è esperta ovviamente di Russia e sa molto bene, conosce bene la storia, vorrei cercare di capire innanzitutto, secondo lei, l'origine di questo conflitto. Perché la mia sensazione, e adesso lascio la parola a lei, è che forse noi, un po' siamo anche giustificati forse, ma non conosciamo bene, anzi sappiamo ben poco di Russia e forse non comprendiamo le motivazioni reali che hanno portato Putin sostanzialmente a invadere l'Ucraina. E volevo capire con lei perché siamo arrivati a questa situazione. Certo, faccio una doverosa premessa che ovviamente è chiaro chi è l'aggressore e chi è l'aggredito. Ho detto questo però ci sono ovviamente delle ragioni di natura storica, quasi secolare potrei dire, ma direi che la situazione ha una data ben precisa che è il crollo dell'Unione Sovietica, la dichiarazione di indipendenza nel 1991 dell'Ucraina, un paese che ha avviato un articolato processo di democratizzazione al suo interno, sappiamo con alternanza al potere di presidenti o filo russi o filo occidentali, un paese che ha avuto la cosiddetta, se vi ricordate, rivoluzione arancione nel 2004, quindi ha sempre diciamo avuto un'attenzione a raggiungere, ad essere ancorata ai valori occidentali e appunto il perseguimento di un assetto democratico. Però è anche vero che un paese potremmo dire culturalmente, tradizionalmente, socialmente diviso, cioè c'è un vero e proprio conflitto, una frattura che spacca il paese nella sua parte settentrionale e più filo occidentale, quella meridionale, ogni riferimento alla Crimea è evoluto e quella orientale, cioè il territorio del Donbass, è sempre stato diciamo più filo russo. Poi al suo interno l'Ucraina ovviamente ha diverse minoranze etniche, c'è la questione appunto della lingua russa e da questo punto di vista è chiaro che anche negli ultimi anni si sono create ulteriori tensioni in seguito anche alla decisione del presidente Zelensky di diciamo seguire quella che era già stata l'impostazione del suo predecessore Poroshenka, cioè di qualificare, equiparare la lingua russa nelle scuole ad una lingua straniera ed evitare e proibire di parlare la lingua russa nelle pubbliche amministrazioni. Questo sicuramente ha creato ulteriori tensioni e probabilmente frutto dell'influenza insomma anche delle forze più conservatrici nazionaliste, questo ovviamente però non giustifica l'intervento militare della Russia. Ecco non lo giustifica però Putin ancora oggi in televisione lo ha giustificato, addirittura ha detto poco fa, queste sono proprio notizie fresche, che russi e ucraini sono lo stesso popolo, ma è davvero così? No non è così, anzi è proprio nella Russia di Kiev che è sorta potremmo dire la Russia, però è chiaro che nel suo disegno che a mio avviso non è un disegno ricente ma che risale sostanzialmente da quando è entrato al potere, io tendo sempre a ricordare il suo monito nei confronti dell'Occidente per Occidente più che altro Stati Uniti, espresso nel discorso alla conferenza di sicurezza di Monaco del 2007. Poi è chiaro che le situazioni sono peggiorate, si sono accelerate nei rapporti tra Russia, Unione Europea e Russia e Stati Uniti dopo la cosiddetta annessione della Crimea che per i russi è considerata invece una riunificazione con la Russia e quindi ci sono state, diciamo, c'è stato un progressivo allontanamento da parte della Russia e di Putin nei confronti dell'Unione Europea, nei confronti degli Stati Uniti in seguito anche, come ben sappiamo, alle rivoluzioni colorate, all'espansione della Nato, all'allargamento dell'Unione Europea che sono stati percepiti dal Cremlino come un'interferenza americana e europea nelle politiche domestiche delle ex repubbliche socialiste sovietiche e in un'ottica di ordine internazionale perché quello a cui stiamo assistendo non è solo tra Russia e Ucraina ma è tra Russia e appunto Stati Uniti, Unione Europea, il cosiddetto Occidente. È chiaro che c'è in gioco l'ordine dell'assetto internazionale, il discorso della sicurezza anche in Europa e Putin voleva essere un attore considerato alla pari di altre grandi potenze con le quali appunto interagire ad un tavolo per decidere sostanzialmente l'assetto del futuro ordine internazionale. Quindi lui ha motivazioni sia di natura, diciamo, politica domestica e sia di natura internazionale e l'Ucraina rientra in quelle famose linee rosse di cui lui aveva parlato al vertice con Biden a giugno a Ginevra. Siamo partiti dal Donbass, all'inizio sembrava che la cosa rimanesse lì circoscritta e poi in realtà, oggi l'ha detto anche Macron proprio questo pomeriggio, l'obiettivo di Putin è letteralmente annettersi l'Ucraina, l'ha detto senza mezzi termini. Ma a questo punto non viene da pensare che forse Putin abbia raggiunto volutamente, perché sicuramente almeno tutti qui si parla o è un pazzo oppure c'è un disegno dietro. Io credo che ci sia un disegno dietro, ma questo lo lascerò poi dire a lei eventualmente. Ma in generale, voglio dire, quello che sta succedendo fa pensare che lui abbia superato quella linea dopo la quale non si può più tornare indietro. Cioè praticamente è stato uno spartiacque questa guerra. I rapporti anche con la comunità internazionale dovranno necessariamente cambiare, presumo, in peggio forse. Assolutamente, siamo davanti correttamente ad uno spartiacque di quelli che saranno i futuri rapporti all'interno dell'ordine internazionale. Condivido con lei, anch'io sono diciamo tra coloro che ritengono Putin che non sia un pazzo, anche se ovviamente quando si parla di guerra c'è follia, però credo che abbia premeditato da lungo tempo questa situazione e che abbia approfittato di alcuni fattori contingenti, come la vulnerabilità, come diceva all'inizio, economica e sociale della pandemia, a suo giudizio anche un'Unione Europea solitamente a quanto divisa su alcune questioni politiche, con una Germania che deve affrontare il post Merkel, Macron che ha le elezioni presidenziali e soprattutto gli Stati Uniti di Biden, dove Biden è ritenuto politicamente debole non solo per i sondaggi ma anche in seguito al disimpegno americano in Afghanistan, che ovviamente ha inficiato quella che era l'immagine di Biden e soprattutto Biden deve anche affrontare le elezioni di midterm a novembre e quindi rischia anche di perdere la maggioranza al congresso, di diventare una lame duck, un presidente anatrazzoppa. Questo unito diciamo alla Nato che fino a qualche tempo fa lo stesso Macron aveva definito con il morte cerebrale e diciamo anche alcune considerazioni legate al fatto che l'Unione Europea dipende energicamente dalla Russia, solo citare questi ma ce ne saranno anche altri, sono motivazioni che hanno indotto probabilmente Putin ad accelerare questa sua volontà, questo suo disegno che a mio avviso insomma ne abbiamo già avuto un chiaro segnale nel 2014. È anche vero però che io per prima ma anche altri esperti ci aspettavamo sì diciamo un'invasione e un intervento militare non tanto nelle due repubbliche ma addirittura nell'intero oblast, regione e territorio del Donbass e per valutazioni diciamo di costi benefici ma anche forse per un naturale rifiuto psicologico no? Pensare di trovarci in una situazione simile non volevamo insomma escludere l'eventualità di prendersi tutta l'Ucraina che invece in queste ore insomma si sta fermando anche in seguito alla telefonata del presidente Macron. Eh sì esatto cioè questo poi lo scenario che si sta via via è sempre in continua evoluzione ci sono sorprese quasi ogni giorno ma l'effetto ottenuto da Putin in questo momento forse non è stato quello desiderato quantomeno all'inizio perché innanzitutto mi sembra di capire poi lei giustamente me lo potrà insegnare mi sembra di capire che in questo caso l'Europa stia facendo quadrato anzi si sia rafforzata quella che è la politica estera dell'Unione Europea che finora è stata praticamente la comunità europea che finora è stata quasi inesistente ma questo fenomeno questa questa guerra ha veramente riacceso non so forse anche un po' di orgoglio non lo so che cosa ma Draghi, Macron, Johnson ma che vabbè ovviamente lui sta un po' fuori però in generale dico tutta la comunità europea si ha fatto quadrato intorno all'Ucraina e ha risvegliato forse qualcosa che era un po' troppo assopito e da questo punto di vista forse Putin non aveva fatto bene i calcoli dico io. Ma potrebbe anche essere perché effettivamente ha ricompattato la Nato ha ricompattato cioè anzi vitalizzato la Nato scusate forse è meglio utilizzare questo verbo ha ricompattato l'Unione Europea però attenzione lei parlava appunto di politica estera ma uno dei punti deboli dell'Unione Europea è al di là del fatto di avere una linea comune l'assenza di una politica di difesa di sicurezza è un esercito militare io però ritengo non so se sono pessimista o realista che Putin abbia addirittura deciso di chiudere con l'Occidente sostanzialmente cioè mi sembra un autocrate che deluso da diversi passaggi storici istituzionali e politici sia diciamo manifestati dagli Stati Uniti sia dall'Unione Europea durante la sua presidenza che abbia ritenuto insomma di darci una prova di forza una dimostrazione di forza probabilmente ci ritiene deboli sicuro il fatto che essendo troppo dipendente energeticamente quindi la minaccia di chiusura dei gas anche se lui ha sempre sottolineato il contrario e addirittura la minaccia come abbiamo sentito ieri dalle parole del ministro degli esteri Lavrov di un conflitto mondiale ma nucleare ritenga siano due elementi deterrenti per diciamo lasciarlo fare in questa in questa situazione di annessione dell'Ucraina però come a mio avviso appunto ritengo che addirittura abbia considerato ormai che l'Occidente è un'opzione da escludere sia totalmente rivolto anche dal punto di vista economico al mercato asiatico indopacifico ecco ma su quello che ha citato poco fa il discorso delle minacce continue che perché poi si sono perpetuate anche nei giorni successivi a quelli di Putin a quella che è stata poi la dichiarazione di Putin cioè questa cosa a me sinceramente ha lasciato un po' perplesso perché Putin che cosa ha detto ha detto chiunque cerchi di ostacolarci quando diciamo ha dichiarato sostanzialmente guerra all'Ucraina ha detto chiunque cerchi di ostacolarci o peggio di minacciare il nostro paese la nostra gente sappia che la risposta russa sarà immediata e porterà conseguenze mai viste nella storia cioè sostanzialmente abbiamo il nucleare quello che voglio dire io è che poi l'Europa non è che è stata a guardare hanno mandato e l'ha detto la von der Leyen e von der Leyen manderemo armi per la prima volta ad un altro paese che non fa parte dell'Unione Europea e della Nato a sostegno perché stanno subendo un'invasione ma di fatto questo non è sostanzialmente un'interferenza nella diciamo nel piano di Putin da parte dell'Unione Europea non è la stessa cosa io credo che il cremlino quindi anche Putin ecco però è chiaro che c'è una cerchia ristretta di persone attorno alla sua figura che magari inizialmente non hanno condiviso questa scelta però adesso sono più riallineati compatti attorno a questa scelta almeno per il momento abbiano ritenuto cioè la possano concepire addirittura quasi come una dichiarazione di guerra cioè il rischio è questo perché tutto ciò che contrasta quello che è il disegno di Putin viene considerata come un'azione no aggressiva da questo punto di vista vero è che è stato detto che un'emergenza non è mai successo però a mio avviso è anche un fatto proprio anche di natura storica ecco eclatante perché per come è nato il processo di integrazione europea insomma sentire parlare di invio di armi dall'Unione Europea e non dalla Nato ecco non si capisce bene a questo punto chi è la Nato e chi l'Unione Europea il rischio è questo poi è chiaro che le risposte sono non si possono lasciare gli ucraini da soli contro questo conflitto ma è anche vero che dal 2014 negli ultimi anni sono incrementate le sovvenzioni economiche gli aiuti militari e le armi però a questo punto inviare solo armi è anche come dire arrangiatevi ecco noi vi diamo le armi ma non abbiamo assolutamente intenzione di aiutarvi nel territorio quindi è una situazione probabilmente di mezzo diciamo intermediaria che è comprensibile visto la situazione ma può essere rischiosa per come viene percepita dalla presidenza potiniana sì ma anche perché poi io sto pensando cioè lui ha fatto leva ma non solo lui su questo aspetto è una minaccia sul nucleare ma la paura è che si crei un pericoloso precedente per cui io minaccio il nucleare la guerra nucleare e con questa scusa spaventando sostanzialmente tutti mi posso permettere diciamo il lusso tra virgolette di invadere uno stato sovrano cioè così solo con la minaccia del nucleare perché a quel punto dall'altra parte chi si prende la responsabilità di rispondere a uno che sostanzialmente ti mette sul tavolo la pistola altro che fumante sì e il problema che a mio avviso lui non bleffa mai quindi è un'ipotesi piuttosto concreta cioè se per pazzia o meno questo è un altro discorso però io direi che ormai non ci interessa sapere se pazzo o meno bisogna capire come affrontare la situazione e diciamo nel migliore modo nel migliore modo appunto possibile per gli ucraini ovviamente ma anche per evitare di coinvolgerci in un terzo conflitto mondiale detto questo mi sembra di aver capito comunque che insomma gli stati uniti per il momento sono forse quasi più cauti dell'unione europea idem la nato quindi c'è una come dicevo prima c'è una grande cautela è una sorta quasi no di incrementalismo cioè Putin da un lato manda la delegazione russa a trattare dall'altro lato però non c'è la tregua quindi continuano i bombardamenti continua la dimostrazione di forza e ovviamente quello che c'è in gioco come dicevamo prima non è solo un assetto nuovo a livello internazionale ma anche il fatto come diceva lei correttamente si crea un precedente e quindi a questo punto qualsiasi autocrate nel mondo e ce ne sono sono in maggioranza rispetto ai regimi democratici può alzarsi una mattina invadere lo stato confinante come tra l'altro già è successo in passato in altre zone e minacciare magari perché ce l'ha nucleare sapendo che la reazione magari in questo frangente sì esatto questa è diciamo probabilmente anche una valutazione di Putin per vedere fino a che punto l'occidente è disposto sostanzialmente a soccombere dal suo punto di vista ed è una situazione delicata e quindi comprendo e condivido la necessità di muoversi con estrema cautela passo dopo passo cercando di mantenere il sangue freddo questo è assolutamente necessario da tutte le parti che non è assolutamente un'operazione facile soprattutto in questo momento dove la tensione sembra salire invece che scendere senta dottoressa io le chiedo una cosa ma secondo lei lei che ha studiato a fondo queste cose e conosce sicuramente meglio di me il popolo russo ma secondo lei il popolo russo è con Vladimir Putin cioè la appoggiano questa guerra cioè sono convinti di quello che sta facendo popolo russo è sempre diciamo spaccato in due se non in tre nel senso che abbiamo visto le immagini dalla prospettiva neschi di san pietroburgo da alcune vie piazze di mosca di gente soprattutto giovani perché c'è una grande questione generazionale all'interno della russia tra giovani diciamo direi anche under 50 che ma soprattutto i giovani ventenni che utilizzano i social media che riescono ad avere informazioni alternative rispetto a quelle della propaganda russa che quindi riescono anche a capire diciamo cercare di comprendere i nostri valori che ci guardano anche insomma con con ammirazione per alcuni aspetti e che stanno manifestando al loro rischio e pericolo perché abbiamo visto che ci sono già stati almeno 8 mila arresti magari sono dei fermi amministrativi di poche ore ma che è un segnale chiaro di minaccia se sei contro questa decisione ovviamente la repressione verrà portata ai massimi livelli l'abbiamo visto l'anno scorso dopo l'arresto di alexia navalni e adesso addirittura si parla all'interno della duma di una proposta di legge che prevede addirittura una pena di 15 anni per coloro che diffondono anche notizie o fake news relative a questo conflitto ricordando bene che nella nei media televisivi non si parla assolutamente non si menziona il termine guerra invasione e aggressione anzi direi più invasione e aggressione di guerra perché è stata presentata come una operazione militare speciale per difendere il popolo ucraino dalle forze ultranazionaliste rappresentate anche dal governo quindi una sorta di missione di pace nel donbass dopo otto anni ma anche di salvare quella che è appunto un'identità ritenuta comune non un'identità ucraina ma russa che richiede quindi un intervento della grande patria per la risoluzione di questa interferenza come viene presentata negli stati uniti della nato quindi attenzione che se non vediamo comunque grandi numeri nelle strade della popolazione di grandi relazioni che poi comunque ci sono anche nei diversi villaggi è la questione diciamo è concentrata su mosca e san pietroburgo ma ci sono anche in altre zone del paese come d'altronde ci sono sempre state in questi anni anche su questioni di natura locale infrastrutture trasporti quanta e ambiente però è chiaro che i over 50 invece 55 solitamente non seguono i social quindi seguendo appunto solo la propaganda televisiva è chiaro che hanno un'altra versione dei fatti quindi a questo punto è difficile contare su una nuova reazione ecco però poi le informazioni in qualche modo arrivano ma soprattutto arriveranno anche gli effetti ma questi sono forse anche a lungo termine delle sanzioni che sono state pesantissime c'è c'è una possibilità che le sanzioni in qualche modo riescono a produrre degli effetti tali per cui alla fine Putin in qualche modo si è costretto ad arretrare oppure Putin non arretta è possibile se il conflitto si protrarà a lungo questo sì perché ovviamente adesso c'è l'impatto iniziale lo abbiamo visto con le code no ai banco ma non è possibile di prelevare valuta straniera c'era la banca centrale russa sta cercando di limitare al massimo i danni no della svalutazione rublo dell'inflazione tutti questi aspetti anche economico finanziari è chiaro che ora può essere presentata come un sacrificio richiesto da popolazione per aiutare il popolo ucraino ma se la situazione si dovesse protrarre nei mesi è chiaro che quella che è sempre stata diciamo incollante una una potremmo dire un aspetto che spiega anche parte del consenso di in questi venti anni effettivo concreto reale che comunque Vladimir Putin ha proprio perché ha garantito una certa stabilità economica un certo miglioramento economico posto che comunque la disuguaglianza c'è ancora è assolutamente il gap tra ricchi e poveri c'è però non è quello di vent'anni fa è chiaro che toccati sulla questione del no della della vita ordinaria e dello status socio economico le reazioni nei confronti del del premlino possono cambiare però ecco sappiamo anche che poi alle elezioni tra le presidenziali sono previste nel 2024 anche se diciamo c'è malcontento poi si possono ricorrere ad altre misure e comunque poi alla fine russia unita che abbiamo visto ha ottenuto la maggioranza assoluta all'interno del parlamento e potrebbe essere ovviamente rivotato Putin nel 2024 però direi di guardare diciamo più a breve periodo e vedere le evoluzioni successive certamente più il conflitto è lungo e maggiori possono essere diciamo le reazioni negative all'interno della russia anche da parte dell'opinione pubblica ecco assolutamente sì adesso siamo a poco più di una settimana dall'inizio del conflitto e la sensazione ovviamente rispetto a quello che riusciamo a vedere che riescono a raccontare anche i cronisti sul campo in un contesto assolutamente difficilissimo è quella che forse Putin abbia sbagliato un po i calcoli perché almeno stando a quello che ci viene detto lui aveva in mente una guerra lampo letteralmente cioè prendersi dico l'Ucraina ma comunque quantomeno Kiev in pochi giorni in realtà non stanno andando proprio così perché il popolo ucraino ha dimostrato qualcosa che forse nessuno si sarebbe mai aspettato e lo sta dimostrando ancora adesso sì sì questo sicuramente c'era ad aspettarselo non sono del tutto convinta che Putin volesse una guerra lampo nel senso poteva essere una guerra lampo se si fosse limitato al Donbass ecco certo ma visto che ha in mente ben altro credo che abbia previsto una guerra di durata maggiore il che non vuol dire mesi mesi potrebbe essere un paio di settimane insomma qui si tratta di capire quando arriva c'è però a Kiev come si comporta dopodiché l'obiettivo finale mi sembra chiaro è la destituzione del presidente Zelensky o tutta quella però rimane il problema come sosteniamo in molti poi di gestire comunque parte della popolazione ucraina che non è assolutamente filo russa e che non accetterebbe neanche un candidato fantoccio da questo punto di vista quindi insomma mi ha strappato una domanda mi ha strappato una domanda è quella nel senso che alla fine io mi sto immaginando mettiamo che Putin arrivi al suo obiettivo destituire il presidente Zelensky e poi come li tieni gli ucraini che sembrano essere non pochi che non accettano assolutamente l'invasore non vedono assolutamente di buon occhio neanche un ritorno dell'ex presidente che sembra sì beh Paraschenko in realtà gli ultimi sondaggi prima del conflitto dicevano che era quasi un testa a testa per su con Zelensky perché perché attenzione Zelensky da quando è stato eletto con il 73 per cento di voti nel 2019 al secondo turno negli ultimi anni ha perso notevolmente il consenso della popolazione che era stimato fino a qualche mese fa al di sotto del 20 per cento è attenzione quindi anche il ritorno di Paraschenko in Ucraina insomma non era poi visto così negativamente però è chiaro che si tratterà di capire chi è la persona ovviamente che potrà prendere Zelensky se è una persona che comunque ha diciamo capacità di tenere coese le varie sensibilità che ci sono all'interno dell'Ucraina come sempre poi sia che si tratti di processi di democratizzazione o di stabilità dei regimi autocratici è la persona che fa la differenza la leadership chiaro certamente non avrà vita facile però è anche chiaro che potrebbero intervenire altre forme maggiormente repressive cioè dopo la guerra insomma la situazione ovviamente non è non è diciamo positiva anche nella nella soluzione di questo tipo è sicuramente una tensione costante è una tensione costante che effettivamente vediamo tutti i giorni sono in base alle notizie che riusciamo a leggere e quello che voglio chiederle secondo lei in base a quello che le sembra di aver capito sinora l'obiettivo di Putin è sicuramente abbiamo capito quello di arrivare a prendersi l'Ucraina diciamolo così molto brutalmente ma poi finisce lì la storia oppure vuole arrivare anche oltre secondo lei c'ha altri obiettivi? Beh è chiaro che insomma avevamo previsto stimato che si fermasse al Donbass ed è arrivato invece all'Ucraina è chiaro che ora cominciamo a chiederci ma è veramente allora questo punto così pazzo da andare fino ai Baltici che vuol dire però paesi nato punto interrogativo ecco io potrei capire di più ad esempio visto come si sta muovendo anche nella zona meridionale capire non giustificare è chiaro per cui bisogna essere fra i tesi perché è un attimo direi se prendiamo la Trasnistria ad esempio è un caso ovviamente che potrebbe essere dal suo punto di vista interessante perché a questo punto Donbass zona orientale ha già la Crimea prende anche la parte della Trasnistria non è detto la Moldova però la Moldova comunque non è né all'interno dell'Unione Europea né nella Nato e quindi effettivamente le famose linee rosse di cui aveva parlato lo scorso giugno potrebbero essere anche queste perché avendo già la Bielorussia avrebbe l'Ucraina ecco però se fa un altro un altro salto proprio di questo tipo ai Baltici o Polonia come si sostiene anche per una prossimità geografica a questo punto allora aveva ragione chi è pazzo oppure ha veramente ritiene veramente diciamo di di avere degli strumenti delle minacce e quindi ha una percezione degli europei degli americani della Nato molto molto debole ecco però è un rischio molto molto elevato ma come dico credo che stia valutando volta per volta e poi attenzione dobbiamo anche cercare di capire le reazioni dell'esercito russo per cui anche la quantità di militari coinvolti insomma è un paese molto vasto l'Ucraina andare anche ai Baltici o finché la Trasnistria è lì insomma vicino Odessa si può anche capire ma andare ai Baltici quindi insomma poi Polonia tutto quello che innescherebbe e allora vuol dire veramente che l'obiettivo non era solo l'Ucraina ma destabilizzare il mondo. Tra l'altro anche la Finlandia è stata chiamata in causa recentemente. Andia Svezia cioè è chiaro insomma qui il discorso poi è nato non nato e sicurezza. Assolutamente è una situazione che non sembra appunto promettere bene però già di fatto ci troviamo come dicevamo prima di fronte ad uno spartiacque. Noi da questa parte in questo momento l'Italia ha chiarito bene la sua posizione con Draghi che di fatto si è allineata a tutti gli altri leader europei ma adesso che cosa ci dobbiamo aspettare perché noi adesso si parla già di una ondata di profughi in tutta Europa. Che cosa dobbiamo aspettarci e come secondo lei dobbiamo reagire da qui in avanti? Ma credo che questa ondata dei nuovi profughi verso i quali ovviamente vista la situazione c'è anche un trattamento diverso ecco decisioni ad esempio dell'Unione Europea di estendere quello che è il visto riconoscimento della loro presenza nei paesi europei per tre anni quindi non un visto turistico ma un visto che consenta anche un domani insomma di cambiare vita e di crearsi una nuova vita all'interno degli stati europei pone ovviamente l'Unione Europea e i stati europei a prendere decisioni magari anche più concrete su quella che sarà la futura politica dell'immigrazione dell'Unione Europea quindi questo potrebbe essere sicuramente una prima valutazione. L'Italia di per sé ha sempre avuto diciamo le cosiddette relazioni privilegiate con la Russia anche di Putin e non solo con l'Unione Sovietica perché appunto storicamente ma anche per motivi culturali letterari linguistici artistici ecco quasi culturali che politici il legame è decisamente stretto lo è stretto per la questione energetica perché dipendiamo per il 43 per cento dal gas urso e solo il 22 per cento dall'Algeria e però è anche vero che l'Italia come diceva lei appena c'è una situazione diciamo di instabilità dell'ordine internazionale si riallinea subito quelli che sono i suoi valori e riferimenti quindi come la Nato, l'Alleanza, l'Unione Europea e quant'altro quindi a rischio anche poi ovviamente di rovinare i rapporti con la Russia ecco questo sicuramente. Lei prima ha detto una cosa secondo me che mi ha impressionato molto cioè secondo lei Putin ha deciso di chiudere con l'Occidente questa però veramente cioè è una cosa che sinceramente penso anche io ho pensato anche io quando mi sono passate davanti tutte quelle immagini mi continuano a passare davanti ma questo se fosse vero a parte segnare il famoso spartiacque ma cioè significherebbe sostanzialmente che l'Unione Europea, la Comunità Europea, tutto il mondo occidentale si dovrà sostanzialmente riorganizzare in modo diverso per far fronte a nuove sfide dir poco nel senso siamo di fronte veramente a un nuovo ordine mondiale questa non è una cosa da poco veramente No, non è una cosa da poco e credo che il fattore imprevedibilità che si tende ad associare le decisioni di Putin sia una delle diciamo valutazioni che lo stesso presidente russo ha fatto proprio su quelle che potrebbero essere conseguenze più per noi che per loro perché comunque Putin è da anni che sta portando avanti diciamo con l'Unione Euroasiatica ha anche rapporti commerciali, economici e finanziari non solo con la Cina ma non solo con ovviamente i paesi dell'Asia centrale ma anche con l'India cioè evidentemente Putin pensa che dall'altra parte rispetto all'Occidente ci sia ancora un mare di opportunità a livello economico che potrebbero eventualmente sopperire diciamo la chiusura dei determinati rapporti economici e finanziari con l'Occidente ecco anche il gasdotto si parla di un terzo oleodotto tra Russia e Cina cioè evidentemente Putin avrà detto se qualora anche l'Unione Europea non avesse più bisogno della diciamo del gas delle nostre risorse energetiche io ho un altro mercato poi il discorso rimane però dell'opinione pubblica di un'opinione pubblica che qui si tratta di capire no poi le dinamiche molto più pratiche sicuramente non politiche sul fatto di mantenere comunque il regime dei visti per turismo e cose di altro genere potrebbe essere una chiusura politica ma non di determinati settori perché ovviamente da questo punto di vista i russi non si può pretendere che seguano ecco questa impostazione sebbene i sondaggi dimostrano che negli anni è migliorato diciamo l'atteggiamento e l'opinione dei russi nei confronti della Cina rispetto ad esempio fino a qualche tempo fa invece era prima rivolta all'Unione Europea quindi come dicevo prima la propaganda comunque mediatica fa degli effetti sugli effetti si vedono ecco ha citato la Cina la Cina in questa guerra sta giocando un ruolo veramente strano almeno io non lo capisco sinceramente cioè è un ruolo che si propone come mediatore ma allo stesso tempo non si capisce se sostanzialmente ci vada a guadagnare o a perdere da quello che sta succedendo in Ucraina lei come la vede perché io non riesco veramente a capire la posizione della Cina rispetto alla Russia credo che sia una posizione di osservatrice nel senso dal punto di vista economico forse non condivide questa scelta di Putin per quelli che possono essere appunto gli effetti economici nei rapporti anche con gli Stati Uniti insomma anche con l'Unione Europea con alcuni paesi dell'Unione Europea quindi forse quello spiega anche un po' la cautela e l'ambiguità di certe posizioni da un lato ha sempre diciamo manifestato riconosciuto la sovranità degli Stati l'indipendenza degli Stati però si è espressa contraria alle sanzioni ecco è questo nei confronti della Russia abbiamo visto che ieri si è astenuta l'ONU proprio perché evidentemente è in una fase diciamo come dicevo di attesa però ecco il fatto come aveva anche riferito insomma l'intelligence americana che dopo l'incontro tra Putin e Xi Jinping ci fosse stato un vero e proprio accordo nel senso che Putin avesse informato della sua volontà di intervenire in Ucraina e quindi come reazione Xi Jinping avesse detto ok ma non durante i giochi il fatto che lui abbia atteso cioè comincia a essere quello che poteva sembrare diciamo un pettegolezzo l'hanno smentito se non sbaglio l'hanno smentito se non sbaglio i cinesi hanno sempre smentito però se guardiamo la tempistica e guardiamo insomma questa ambiguità vorrebbe dire che comunque la Cina poi è chiaro che sono sempre stati nemici storici però in questo matrimonio di convenienza in chiave anti americana non vorrei essere troppo frettolosa e quindi non condivido già chi sostiene che si è rotto l'idiglio a mio avviso stanno semplicemente osservando e cercando di capire come muoversi e dall'altra parte ci sono gli Stati Uniti che da questa guerra invece apparentemente ci potrebbero quasi loro non ci stanno sostanzialmente rimettendo nulla dal punto di vista energetico sono super indipendenti anche per il gas eccetera eccetera non ci rimettono perché non li possono sfiorare perché la guerra è lontano da loro in questo momento ma allo stesso tempo un eventuale negoziato adesso si parla di negoziati e beh se ci fosse un negoziato dove sostanzialmente poi Putin riesce a ottenere quello che vuole allora a quel punto gli Stati Uniti non so quanto potrebbero essere contenti di quello beh sì perché il discorso è anche che Biden aveva richiamato mesi fa c'era stato un incontro dell'alleanza delle democrazie cioè qui è uno scontro tra Stati Uniti e Occidente chiamiamolo come vogliamo con la Russia, la Russia-Ucraina ma c'è un discorso molto più ampio di contrapposizione tra regimi liberali e regimi illiberali o non democratici possiamo utilizzare le etichette che volete però questo è quello diciamo che c'è anche in ballo per cui effettivamente gli Stati Uniti al momento sono quelli che hanno meno da perdere perché ovviamente il conflitto non è nel loro territorio e per le motivazioni che lei accennava si tratta però appunto di capire anche la direzione che prenderà questo conflitto se ci saranno veramente degli effetti negoziali però di che tipo è chiaro che nelle negoziazioni entrambe le parti dovranno cedere a qualcosa quindi si tratta di capire cosa vuole cedere e se è disposto a cedere Putin ma anche Zelensky quindi non escluderei insomma che le posizioni di entrambe non cambino secondo lei c'è un modo per far sì che la partita si chiuda quantomeno cioè che le armi tacciano è la prima cosa però che la partita si chiude in modo tale da come si dice in questi giorni salvare la faccia Putin ma allo stesso tempo far sì che l'Ucraina non perda sostanzialmente è una soluzione che ovviamente può non piacere perché sembrerebbe e forse lo è ci mancherebbe altro a scapito di quella che è la coesione e l'unione dell'Ucraina però per le motivazioni che le dicevo all'inizio dell'intervista non è mai stato un paese così coeso quindi forse accettare il riconoscimento delle due repubbliche indipendenti l'annessione della Cremea e una neutralità sulla questione Nato potrebbe essere ovviamente un'accessione da parte di Zelensky cioè di non portare avanti la richiesta che tra l'altro non è mai stata presentata formalmente di azione alla Nato e quindi rinviare quello che è un procedimento che comunque anche la stessa Nato non avrebbe accettato sia chiaro non è che era in previsione dopo domani l'adesione dell'Ucraina perché mancano dei criteri oggettivi così anche per diventare membro dell'Unione Europea ma allo stesso tempo Putin dovrebbe cedere sul fatto che rimane Zelensky presidente e che poi si vedrà alle elezioni presidenziali del 2024 come cambieranno le cose questa potrebbe essere ovviamente una soluzione di compromesso è chiaro che perderebbe ancora parte del territorio l'Ucraina però è anche vero che quella parte del territorio dove ci sono sempre stati i conflitti perché ricordiamoci è da otto anni che c'è il conflitto dell'Ontario ci siamo improvvisamente svegliati ma è da otto anni che c'è comunque questo conflitto per cui è una situazione a una parte di territorio sicuramente che anche se non fosse riconosciuta creerebbe problemi se non a Zelensky a qualsiasi altro candidato che non diciamo fosse o russofono o comunque non dico filo russo però troppo orientato nei confronti del Fremlino quindi anche lì questo forse sono nodi storici che vengono al pettine dopo anni perché probabilmente forse bisognava intervenire dopo la dichiarazione di indipendenza negli anni 90 o comunque inizio anni 2000 magari attraverso una diversa configurazione statale magari più federale e non di Stato unitario questo forse avrebbe magari favorito una maggiore tranquillità e stabilità dell'Ucraina stessa è questo che le volevo chiedere c'è un modo ci sarebbe stato un modo forse per arrivare a evitare quello che poi è successo è questo quello capire però mi ha già risposto se partiamo dal presupposto che Putin vuole comunque l'Ucraina non c'è modo che tenga non mi piacciono le narrazioni ah ma se fosse stato la controfattualità però se vogliamo avere un'analisi oggettiva errori ne sono stati commessi anche dalle leadership ucraine negli anni non di Zelensky negli anni e quindi come dicevo prima i nodi vengono a pettine poi c'è stata anche un forte diciamo ingerenza se vogliamo perché così viene interpretata dalla Russia ma invece dal nostro punto di vista era un ancoraggio democratico all'Ucraina da parte dell'Unione Europea con quell'avvio della richiesta della firma dell'accordo di partenariato europeo dal quale poi è scaturita Euromaidan e tutto il resto quindi forse non bisognava accelerare troppo però è anche vero che qui c'era un discorso di democratizzazione del paese legittima aspirazione ad essere un paese indipendente assolutamente però credo che ci sia sempre stata una questione di sfere di influenza e quindi togliere l'Ucraina la sfera di influenza della Russia e di Putin credo che comunque sia stata una volontà di tutti senza entrare nel merito della correttezza o meno di questa decisione politica ma mi sembra abbastanza evidente però come dico al di là dei semmai degli errori di molti di tutti gli attori in gioco se Putin vuole l'Ucraina insomma poteva anche avere un assetto diverso che l'obiettivo è questo l'ha detto però lei sono stati commessi degli errori in passato anche da parte dell'Ucraina questo che voglio capire perché oggi tanti dicono eh sì però in fondo in fondo Putin qualche ragione ce l'ha ovviamente io personalmente non mi sentirei mai di giustificare un atto del genere ma qualche ragione ce l'ha secondo lei le ragioni vengono a meno nel momento in cui è deciso di affrontare un'aggressione di questo tipo di questa dimensione ci mancherebbe con il rischio di una terza guerra mondiale soprattutto nucleare quindi assolutamente non ha alcuna ragione non ha alcuna ragione quando sostiene nel suo discorso che è stato pubblicato nel luglio del 2021 che ripercorre le motivazioni storiche a suo avviso dell'unità di questi popoli dove c'è un forte revisionismo storico perché comunque l'obiettivo come dico è quello di far rientrare l'Ucraina in qualche modo nella sua sfera di influenza fatta questa doverosa premessa che non giustifica nulla ribadisco che comunque all'interno dell'Ucraina sicuramente le varie leadership che si sono succedute hanno preso delle decisioni politiche che hanno allontanato sempre di più l'Ucraina dalla Russia forse perché gran parte assolutamente degli ucraini soprattutto nella zona settentrionale come dicevo prima non vuole avere nulla a che fare con la Russia di Putin e vuole ancorarsi all'Unione Europea e ai nostri valori però è anche vero che c'è una parte assolutamente di popolazione che questo non lo vuole quindi non aver tenuto conto di queste diverse sensibilità ha diciamo acutizzato ancora di più un'attenzione presente all'interno del paese che comunque ribadisco non giustifica un atto di questo genere però se vogliamo cercare di fare un'analisi storico-politica per capire come mai siamo arrivati a questo punto per evitare il futuro di ritornarci credo che sia doveroso comunque prendere in considerazione tutti questi aspetti e ce ne sarebbero altri e ci mancherebbe altro però fermo restando che questa non ha ragione di esistere nel momento in più un'aggressione di questo tipo assolutamente sì e poi tra l'altro appunto come dicevamo prima a patto che la forza militare ovviamente della Russia non può essere paragonata a quella dell'Ucraina quindi la resistenza potrà andare avanti penso io fino a un certo punto ma arrivati a capitolare comunque arrivato all'obiettivo Putin dovrà fare forse i conti poi con la popolazione ucraina esattamente sì ha già preso Mariupol, Kherson la città più grande insomma alla Crimea adesso arrivano le flotte navali a Odessa assolutamente Kiev poi io sostengo anche questo non perché bisogna sostenere la narrazione che la Russia è forte militarmente perché può essere benissimo che Putin o non abbia preso in considerazione abbia fatto delle valutazioni errate anche su come possono reagire i soldati però non ha neanche dimostrato non ha ancora utilizzato tutto l'assenale che ha a disposizione esatto infatti adesso però ecco meno male però ecco nelle analisi non si tiene purtroppo in considerazione questo quindi prima di darlo per sconfitto o per devole attenzione assolutamente no perché è vero che sono 45 milioni di persone il territorio è vastissimo però se arrivando a Kiev e dovesse addirittura appunto approcarsi anche di quella città conquistare anche quella città con mezzi che vanno oltre che armati sia chiaro qui la situazione ovviamente vorrebbe dire una perdita dell'Ucraina e un'impossibilità veramente di fare resistenza di fronte ad armamenti appunto più sofisticati e anche molto più letali anche perché la sensazione è che lui abbia iniziato diciamo soft come si diceva abbia toccato a piano detto in maniera molto invece adesso però è chiaro che può essere ovviamente iniziando soft tutti hanno detto ha connesso dei errori la valutazione e ci può stare io non escludo questo non voglio esprimere verità assolute pongo dei dubbi che è il mio mestiere e quindi il dubbio è non è una guerra lampo come l'abbiamo detto prima perché non è solo il Donbass è impensabile in una guerra lampo prendere in tre giorni l'Ucraina probabilmente lui sta come dicevo utilizzo questo termine perché credo che sia significativo incrementalismo cioè mossa dopo mossa passo dopo passo la dimostrazione di forza è sempre maggiore e tra l'altro utilizzando magari armamenti diversi quindi non lo sottovaluterei e poi sedersi al tavolo delle trattative per dire ne avete abbastanza o continuiamo come dire sì ma questo è nell'ordine delle cose dimostrare più forza prima di una trattativa per arrivare a un negoziato in una posizione molto più forte più di dominio cioè per portare a casa un risultato però nel senso credo che se l'obiettivo è quello che ormai ha anche manifestato esplicitato altro che dimostrazione di forza probabilmente interverrà con altri armamenti e qui a quel punto la resistenza degli ucraini anche se con nostri armamenti potrebbe veramente venire a meno nonostante abbiano dimostrato veramente un grande coraggio un grande senso assolutamente sì beh purtroppo non possiamo avere la sfera di cristallo l'unica speranza è che veramente questo conflitto finisca al più presto per tutti è indivenire quindi quello che ho detto oggi quello che ci siamo detti oggi potrebbe essere smentito assolutamente per tre minuti però mi sembra che alcuni punti fermi siano emersi assolutamente dottoressa io ancora un flash le rubo per chiederle se mi ha piacere di parlare del suo libro che ha scritto proprio su Vladimir Putin perché lei ha studiato sì beh io innanzitutto conosco la lingua russa ho fatto il liceo linguistico in questi anni poi da 2000 che vado ripetutamente in quel paese per motivi di ricerca il libro si intitola La Russia di Putin è uscito nel 2020 per la casa editrice Il Mulino direi che però è ancora attuale perché l'impostazione di questo libro è suddivisa in una descrizione non è una biografia su Putin questo lo voglio precisare non è un'analisi solo storica perché sono una scienziata politica quindi un'analisi politologica che tiene conto ovviamente della storia che spiega l'assetto istituzionale quindi il rapporto tra presidente governo e parlamento il ruolo dei partiti le elezioni come funzionano l'aspetto culturale nazionalistico l'economia neopatrimoniale l'economia insomma di stato questo capitalismo di stato e l'ultima parte che ho intitolato la Russia contro il resto del mondo ecco perché non perché ritenessi che la Russia volesse già insomma essere così aggressiva assertiva mi sono rifatta ovviamente a un titolo di un altro collega anglosassone che a mio avviso era indicativo descrive i rapporti tra Russia e occidente ovvero Stati Uniti e Unione Europea con le sue ex repubbliche socialisti sovietiche quindi il vicino estero con il Medio Oriente con il Caucaso e ovviamente anche con la Cina e poi ci sono conclusioni su quello che potrebbe essere il dopo Putin che non voglio spoilerare ecco ma noi giusto perché dobbiamo capirlo dobbiamo leggerlo per capire il presente dobbiamo cominciare a studiare un po' il passato perché oggi veramente sembra che ci siamo svegliati tutti senza sapere le cose perché di fatto guardi poi le dico anche che Putin ha sempre cercato di mettere in rilievo le contraddizioni delle scelte occidentali vedi Iraq Stati Uniti e molte altre e anche questo diciamo atteggiamento che lui definisce isteria occidentale anche oggi la definita anche Lavrov che abbiamo notato in questi giorni anche nel nostro paese rifiutando di parlare di letteratura russa di libri russi di fotografie russe di mostre alla fine non fanno nient'altro che il gioco assolutamente di questa divide timpera è assolutamente il gioco della narrazione timiana quindi ecco direi che è bene evitare anche queste forme di nuovo maccartismo per non dividere non indebolire ancora di più i regimi democratici assolutamente sappiamo chi è l'aggressore sappiamo chi è l'aggredito ma come dice lei se non ci ragioniamo se non riflettiamo se non cerchiamo di capire anche sui nostri ruoli perché è giusto ammettere che ci siano stati al di là delle legittime rivedicazioni ci mancherebbe altro dell'Ucraina diciamo che Putin sarà sempre più forte assolutamente sarà indebolito nei prossimi mesi dalle conseguenze economiche e politiche del suo gesto allora io la ringrazio tantissimo dottoressa Morini per la sua disponibilità la sua grandissima competenza e spero di poterla risentire presto in questo podcast in tempi di pace magari speriamo di fare una valutazione su perché siamo arrivati alla pace assolutamente mi piacerebbe moltissimo un po' di consenso da parte di tutte le parti coinvolte ma è chiaro che non bisogna sottovalutare ripeto Vladimir Putin assolutamente grazie ancora dottoressa Morini e buona serata saluto buona serata e ci siamo arrivati alla fine di questo ventunesimo episodio della telefonata fatemi ringraziare ancora una volta Mara Morini la dottoressa professoressa Mara Morini per la sua veramente grande competenza l'avete ascoltata è stato un piacere nonostante il tema che non è assolutamente uno dei temi più più simpatici da affrontare ma è stato veramente un piacere ascoltare la sua competenza la sua preparazione e ci ha veramente un po' fatto capire quello che sta succedendo da dove arriva ci ha fatto capire veramente anche un po' dove stiamo andando sostanzialmente a seguito di quello che è successo perché l'avete sentita cioè quello che è successo sostanzialmente è praticamente una dichiarazione di guerra si può dire all'occidente e quindi i rapporti non potranno essere più gli stessi e poi vedremo adesso come andrà avanti la storia ovviamente noi la speranza che abbiamo è che il conflitto la guerra termini al più presto questo penso che sia un sentimento comune da tutti noi beh io se siete arrivati a ascoltare sino qui oltre a ringraziarvi come faccio sempre vi ricordo che potete ascoltare tutte le puntate tutti gli episodi della telefonata su tutte le principali piattaforme podcast apple podcast spreaker spotify ma anche su youtube la telefonata è il podcast di vg.it il giornale online più letto della provincia di Savona io per adesso vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima telefonata ciao a tutti